buona giornata amici di fano tv oggi è venerdì 13 gennaio 2023 e bentrovati alla rassegna stampa iniziamo insieme la giornata come ormai da tempo facciamo per vedere e leggere le notizie sui giornali resto il carlino e il corriere adriattico passiamo come sempre con l'almanacco del giorno attraverso l'almanacco del giorno e vediamo il santo il santo oggi è sant'ilario di poitier visse nel quarto secolo era da poco la liberalizzazione della religione cristiana però ancora c'era da che combattere perché il paganesimo ancora imperava ebbene sant'ilario convertitosi al cristianesimo modellò la sua vita secondo il vangelo fu nominato anche vescovo combatte le eresie fu esiliato dall'imperatore costanzo ma questo non ottenne che ilario rinunciasse alla sua predicazione soprattutto una predicazione contro l'arianesimo che allora insidiava la vera ortodossia della chiesa in tutta la sua vita si distinse per la purezza della sua fede sant'ilario sant'ilario non è un nome molto comune ma ci sono molte sono diverse persone che hanno questo nome quindi facciamo gli auguri a loro a Ilario vediamo ora le previsioni del tempo sulle marche cieli in prevalenza nuvolosi con nubi in parziale aumento in serata i venti saranno al mattino moderati al pomeriggio tesi da sud ovest il mare è poco mosso le temperature e oscilleranno dai 7 gradi che è la minima ai 13 che è la massima dicevo il mare è poco mosso ed ora diamo un'occhiata il giornale a partire oggi dal resto del carlino la pagina di fano vediamo qua il titolo dedicato al vittorio colonna questo grande complesso ormai in disuso da diverso tempo da anni da decine di che viene fatto oggetto di ingressi abusivi sono le persone senza tetto che hanno bisogno di una casa un posto per dormire e non trovando nulla valicano la recensione che circonda tutto l'isolato del vittorio colonna e penetrano penetrano purtroppo facendo anche dei danni vittorio colonna l'incubo è finito via alla bonifica lavori in corso all'ex convitto l'assessore cucchiarini che è la responsabile della polizia locale a livello politico dice è un obiettivo su cui era opportuno intervenire dunque lavori in corso è stata incaricata una ditta che si tratta della ditta italia solutions specializzata nella bonifica dei siti inquinati e la sanificazione degli ambienti perché perché dentro ci sono ambienti particolarmente devastati segni di una continua occupazione abusiva situazione veramente disastrosa tutti i mobili che erano stati lasciati nelle stanze di quello che altro non era che un villaggio turistico perché dopo essere stato un collegio il vittorio colonna ha cambiato anche diverse proprietà ed era stato anche indicato come un punto per vacanze per anziani era stato anche arredato ebbene questi mobili sono stati praticamente distrutti fatti a pezzi i vetri alle finestre rotti distrutti gli impianti elettrici ed idraulici e sul pavimento una stratificazione di rifiuti e di lordure per non dire altro quindi pensate come era come è l'interno di questo stabile la recinzione che avrebbe dovuto tenere lontani gli estrani è stata più volte diventa e la grossa catena con cui era legato il cancello non è bastata a scoraggiare i malintenzionati ora si cerca di correre i pari ma se non si trova una soluzione definitiva strutturale per questo grande complesso probabilmente poi in futuro si ripeteranno non vorrei essere una cassandra ma si ripeteranno gli ingressi abusivi e tutto resterà inutile il sopralluogo di oggi ha spiegato l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini e la parte finale ci auguriamo tutti di un percorso che ha trovato interlocuzione ed impegno comune tra comune di Fano corpo della polizia di Fano e la questura con il commissariato di Fano ebbene ogni tanto si fanno dei blitz però dopo che si scova o magari si rintraccia un occupante abusivo passa un po' di tempo e poi si ritorna e si ricomincia da capo vediamo anche un altro articolo che sul resto del calino viene pubblicato sulla seconda pagina mentre sul Corriere Adriatico funge da apertura la storica azienda Ideal Ceramiche che è una delle aziende più importanti del fanese che si occupa di ambienti sanitari e di arredi appunto per i locali passa al gruppo Bresciano Clerici Ideal Ceramiche, l'azienda fanese fondata nel 1972 da Luciana e Denzo Muccioli passa al gruppo Bresciano Clerici leader nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari Erredo Bagno l'acquisizione di Ideal Ceramiche, azienda di riferimento per il mercato delle ceramiche con un fatturato di 6 milioni, questo appunto è il gruppo Clerici e una trentina di dipendenti rientra in una strategia che ha consentito al gruppo Clerici di crescere in misura rilevante in tempi recenti e di rafforzare la sua presenza nelle marche dove già presente con Saccaria insomma è un'operazione importante che è stata effettuata che consolida appunto una presenza importante di carattere economico ma anche di carattere imprenditoriale per futuri ampliamenti una presenza importante, dicevo, nel nostro territorio l'importante è anche aver salvato i 30 dipendenti della Ideal Ceramiche che in questo momento quindi hanno un futuro più sereno per quanto riguarda la loro attività e un articolo di spalla sul resto del carlino parla anche dei progressi che sta facendo il cantiere Wider al porto di Fano qui si sta lavorando già ad un catamarano che è stato venduto uno dei cinque catamarani in produzione da parte dell'azienda in lavorazione nel nuovo cantiere Wider del porto il primo dei cinque catamarani Wider Cat 92 già venduti l'imbarcazione sarà varata quest'estate al porto di Fano e debutterà al Can Yotching Festival 2023 in programma dal 12 al 17 di settembre prossimo la scorsa settimana due scafi di Wider Cat 92 attuale ammiraglia della gamma dei catamarani a propulsione ibrida seriale hanno raggiunto il cantiere del porto dove è in corso l'installazione degli impianti la verniciatura e l'allestimento interno quindi si procede proprio a sprombattuto per realizzare questo nuovo polo produttivo proprio all'interno del porto di Fano vediamo le altre notizie passiamo a Mondolfo a Mondolfo si qualifica e si identifica soprattutto si quaglia diciamo così la pista ciclabile Centocroci-San Gervasio parallela alla Pergolese insomma alla 424 questa strada pericolosa per il traffico più leggero e quindi questa infrastruttura diventa veramente importante per la salvaguardia della sicurezza Centocroci-San Gervasio San Gervasio è una delle più caratteristiche antiche chiese del nostro territorio chi la visita ne riceve una suggestione veramente impressionante una grande emozione Mondolfo comunque parliamo di pista e non di chiesa Mondolfo la pista correrà parallela alla statale 424 la Giunta ha approvato il progetto ora sarà effettuata la gara per l'affidamento dei lavori e nell'articolo ne parla l'assessore alla mobilità sostenibile Filomena Tiritiello che la vediamo qui nella fotografia e poi passiamo alla pagina di Urbino dove ancora montano le polemiche contro la sottrazione tra virgolette della diocesi che viene accorpata alla diocesi di Pesaro i Vescovi devono ridarci 3 miliardi di vecchie lire dopo le dure prese di posizione delle consigliere regionale Rossi che sono apparse sulla stampa vediamo che oggi ne parla Londèi il caso Arcidiocesi Londèi svela che per la legge speciale su Urbino subì pressioni quando era appunto sindaco di Urbino per dare fondi a Loreto allora fu uno sbaglio ora dice in merito a quanto è accaduto ci togliete l'autonomia dell'Arcidiocesi allora forse è il caso che restituiate al territorio i soldi che gli sarebbero spettati 30 anni fa ma a cui si rinunciò in favore del restauro e conservazione della Santa Casa di Loreto ovviamente è una provocazione si cerca in tutti i modi di fare cambiare idea al Vaticano per così impedire la sottrazione della diocesi insomma che desta un cumulo di proteste insomma vedremo come andrà a finire per quanto riguarda il 2023 c'è un calendario che fa omaggio a Santi ovvero al papà di Raffaello creato dal comune con il Palazzo Ducale l'Accademia Raffaello un omaggio al padre di Raffaello si tratta di una pubblicazione mirabile insomma che è bello averla anche perché i quadri del Santi ce n'è uno anche a Fano molto bello nella chiesa di Santa Maria Nuova che merita di essere guardato ma anche capito nella sua concezione ma vediamo anche un altro articolo che riguarda questi quadri vediamo qua nel Corriere Adriatico che si parla invece del capolavoro del Perugino che è sempre custodito nella chiesa di Santa Maria Nuova perché il sindaco di Fano insieme all'assessore alla cultura Cora Fattori hanno compiuto una visita all'istituto Pietridure di Firenze dove da tempo è in fase di restauro il quadro della Madonna e Santi del Perugino con la Cimasa Superiore ebbene non la Predella la Predella ha subito altri viaggi e altre esposizioni ebbene qui il quadro del Perugino aveva dei tarli e quindi si sono dovuti bonificare appunto i legni che compongono il supporto della pittura però i restauratori hanno approfittato per fare ulteriori indagini è da tempo ormai che questo quadro manca dalla chiesa di Santa Maria Nuova privando, dobbiamo dire, per lungo tempo i visitatori che attratti appunto dai capolavori del Perugino e dalla Predella attribuita a Raffaello volevano vedere questi dipinti all'interno della chiesa invece vedevano soltanto delle copie comunque il sopralluogo del sindaco ha valso la promessa che il quadro sarà restituito entro l'anno perché quest'anno ricorre a un significativo anniversario del Perugino sono 500 anni dalla sua morte e quindi anche Fano vorrà celebrare questa data significativa con convegni, con esposizioni dedicate a questo pittore molto importante del Rinascimento torniamo a guardare il resto del Carlino vediamo che si parla della Fano Grosseto attendo qui Salvini ha dichiarato il sindaco di Urbino Gambini la strada va completata entro questa legislatura non abbiamo scusanti per non procedere una sintonia con il presidente della regione Acquaroli anche Acquaroli insiste per il completamento di questa strada ma Gambini vuole Salvini vuole l'assessore alle infrastrutture scusate il ministro alle infrastrutture lo vuole qui nel territorio per discutere e insomma concretizzare le sue promesse vediamo ora la pagina di Pesaro sul resto del Carlino vediamo che si parla della benzina questa benzina che con alti e bassi manda in bestia veramente tutti coloro che lavorano e quindi hanno bisogno dei trasporti per raggiungere le sedi del loro lavoro benzinai furiosi i clienti non ci parlano più un rappresentante costi insostenibili se sono furiosi i benzinai pensate quanto lo sono i loro clienti ora spendo 150 euro a settimana per il carburante ha detto un cliente prima mi bastava la metà in vista due giorni di sciopero il 25 e il 26 dei distributori per impedire per cercare di fare cambiare idea ai benzinai c'è oggi una riunione in sede governativa e vediamo qualche prezzo che pubblica oggi il Carlino per quanto riguarda il prezzo della benzina a self vediamo che ci sono alcune diversità alcune anche significative per esempio nel Tamoil strada panoramica il prezzo della benzina è 1,762 all'Agip di via Flaminia 14 il prezzo è 1,807 e già qui c'è un aumento nell'area di servizio Foglia Est in autostrada il prezzo è molto superiore perché si paga un litro di benzina 2,039 quindi da 2,039 in autostrada a 1,769 è il prezzo più accessibile praticato dalla Tamoil ma bisogna andare nella strada panoramica quindi un po' decentrato rispetto al centro storico vediamo poi come qui si parli di un sindacalista pesarese ora ai vertici dell'Inps si tratta di Roberto Ghiselli che persiede il Consiglio Nazionale di Indirizzo e Vigilanza cercheremo di far accorciare di molto i tempi di attesa per le visite ha detto e siamo pronti ad investire 17 milioni su Villa Marina quindi un impegno importante da parte di Ghiselli una notizia di cronaca ragazze picchiatrici hanno solo 15 anni pensate agguato al campus urla insulti calci e pugni a due coetane sono state malmenate due ragazze da alcune loro coetane molto molto aggressive il motivo non è chiaro insomma gli inquirenti stanno indagando per sapere le ragioni di questa lite però ancora non si sa comunque è certo che le vittime iscritte alla scuola Mamiani sono state prese per i capelli buttate a terra picchiate poi le responsabili quando hanno visto insomma che la loro azione stava tirando l'attenzione dei coloro che erano presenti hanno preso e sono fuggiti si sono deleguate in fretta sul posto sono giunti i carabinieri e l'ambulanza i sospetti sono di due iscritte all'alberghiero ma questo non è proprio accertato c'è una certa ipotesi che aleggia e quindi deve essere verificata dunque due studentesse quindicenni presumibilmente dell'alberghiero hanno teso un agguato a due coetane che dovrebbero frequentare il liceo classico Mamiani dislocato al campus un assalto durato qualche minuto poi l'intervento di altri ragazzi ha permesso di limitare i danni e fare allentare la presa alle due violente quindicenne quindi qualche scoriazione qualche tumefazione qualche dolore ma le due vittime poi non sono andate a pronto soccorso ma sono rientrate a scuola indaga ovviamente anche il preside per sapere se poi sono delle studentesse della sua scuola verranno prese provvedimenti anche a livello scolastico ed ora qui parliamo del ponte che un nuovo ponte che dovrebbe attraversare il fiume Foglia ne parla l'assessore Pozzi il ponte lo chiama Mezzaluna perché lo vedete qui in questa fotografia ha una forma arcuata e quindi a Mezzaluna attraversa il Foglia l'assessore Pozzi il ponte a Mezzaluna è quasi finito lo ha visitato all'interno della ditta che lo sta realizzando si tratta di una ditta vediamo un attimo la ditta la ditta insomma prima l'avevo vista adesso non la vedo più sull'articolo si tratta comunque di un ponte che attraverserà il Foglia e collegherà la via Liri Vismar e via Timavo a Torraccia tra due settimane inizieranno i lavori per il sottopasso conferma ancora Belloni è a tempo due settimane continua Pozzi delimiteremo l'area di cantieri in fondo a via dell'Acquedotto una nuova infrastruttura importante qui la vediamo all'interno dell'officina mentre si sta appunto realizzando questa bella e grossa infrastruttura ed ora vediamo il successore di Moreno Bordoni alla guida della CNA di Pesaro è il nuovo direttore si chiama Claudio Tarsi eletto direttore provinciale è un uomo di Marotta Claudio Tarsi 54 anni guiderà l'associazione dell'artigianato della piccola e media impresa provinciale nel ruolo di direttore non più di segretario per uniformarlo anche alle altre CNA provinciali delle Marche di formazione tecnico amministrativa sposato due figli residente a Marotta di Mondolfo vanta una lunga carriera tutta interna all'associazione nella quale è entrato nel gennaio del 1990 poi ha acquisito diversi ruoli ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare ora direttore provinciale quindi un incarico ma anche un impegno di grossa responsabilità vediamo anche un aggiornamento sul biolaboratorio che viene contestato dai residenti toni accesi tra comitato e consiglieri partecipanti hanno accusato i vari rappresentanti di non sapere niente ancora ci sono molti dubbi sulla effettiva natura diciamo di questo laboratorio di questa istituzione scientifica che dovrebbe insomma lavorare con i virus e quindi insomma c'è qualche timore qualche perplessità chiudiamo il resto del Carlino e diamo un'occhiata al Corriere Adriatico vediamo qui abbiamo visto prima l'apertura sulla Ideal Ceramiche che è passata di mano il gruppo clerici acquisisce la società e poi voglio farvi vedere anche un appuntamento perché oggi alle ore 17.30 la Fondazione Carifano Anna Falcioni la medievalista Anna Falcioni presenta il volume di Silvano Bracci San Giacomo della Marca un santo marchigiano vissuto nel 1400 un grande predicatore fu anche un uomo di fiducia di papi predicò presso corti europee Ungheria Austria insomma girò praticamente tutta l'Europa ed era un marchigiano uno dei nostri del 1400 insomma e quindi non da molto si è celebrata anche la sua festività la sua ricorrenza il museo della Flaminia accende due visori di nuovo utilizzabili per ammirare la basilica vitruviana a fondo pagina e invece sulla seconda pagina c'è un'apertura dedicata al crowdfunding al crowdfunding di Fondazione Carifano sono stati raccolti 147 mila euro per otto associazioni cos'è quel crowdfunding è quell'operazione che la Fondazione Carifano ha attivato nei confronti del volontariato delle associazioni di volontariato che cosa ha fatto invece di dare semplicemente dei contributi a fondo perduto e basta cosa ha fatto ha invitato le associazioni a raccogliere fondi per finanziare i loro progetti e la Fondazione cosa ha fatto ha raddoppiato i fondi raccolti dalle associazioni fino ad un massimo di 10 mila euro di più c'è qualcuno anche che ha raccolto molto di più c'è per esempio un'associazione che ha superato i 50 mila euro però il contributo della Fondazione è stato sempre di 10 mila euro comunque 10 mila euro importanti perché poi i numeri sono veramente interessanti infatti è di 146 mila 412 euro a cui se ne aggiungono 78 mila 557 erogati dalla Fondazione Carifano l'esito del bando crowdfunding 2022 giunto quest'anno alla seconda edizione di 10 progetti ammessi 8 hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta prefissati e quindi hanno ottenuto i fondi a disposizione chi sono queste 8 associazioni che hanno ricevuto il contributo sono vivere sereni il cui obiettivo è stato quello di occuparsi degli anziani soli e intende realizzare anche un centro diurno per i diversamente abili e poi c'è l'associazione Onfalos autismo abbiamo Adamo abbiamo la Caritas di Ocesana la Mariposa di Colli al Metauro l'Argonauta e poi l'associazione genitori e figli per l'inclusione e ancora l'Africa Chiama sono queste le associazioni che hanno ricevuto i contributi e che ieri si sono presentati in conferenza stampa nella sede della Fondazione Carifano e che vediamo una fotografia che riunisce tutti i loro rappresentanti a Fossombrone lavori al palazzo municipale sono già disponibili 600.000 euro ai fondi del comune se ne sono aggiunti anche altri sono 245.000 euro da parte del Ministero dell'Ambiente e quindi un lifting diciamo così un refitting altra espressione che prendiamo dalla nautica per questo palazzo che è un bel palazzo ancora sulla pagina di Mondolfo qui si parla della pista ciclabile della Pergolese Centocroci Centocroci San Gervasio ufficio al lavoro per il bando di gara una bella pista ciclabile che permetterà di viaggiare in sicurezza i ciclisti ma anche i pedoni per quanto riguarda invece la pagina di Senigallia vediamo che c'è il T-Red che senza pietà ha fatto ben 24 multe al giorno e le PD mettete fine a questo salazzo lo ha detto lo ha detto un rappresentante si tratta di Dario Romano capogruppo del Partito Democratico e dice togliete quel T-Red però insomma se 5200 veicoli nei due incroci monitorati dai T-Red sono passati col rosso non so se è il caso di togliere questo dispositivo che consente di individuare chi fa una guida pericolosa comunque poi ognuno tragga le sue conclusioni certo che 5200 veicoli che sono stati colti in fragrante dimostra come ci sia poco rispetto ci sia anche e sia molto pericolo in questi incroci nonostante appunto i semafori nonostante che ci sia un impianto di sorveglianza vediamo qualche pagina di Pesaro anche sul Corriere Adriatico si parla della nuova Questura ecco qua il titolo entro settembre del 2026 la nuova Questura sarà pronta negli spazi della Cialdini in Senato il ministro Piantedosi il ministro dell'interno ha risposto a De Poli sul cronoprogramma e ha detto un po' la sequenza delle date per realizzare questo nuovo servizio perché quello vecchio insomma ormai lascia molto a desiderare studentesse picchiate da due coetane spedizione punitiva prima della scuola è l'articolo che riguarda la cronaca di cui abbiamo già parlato qui si parla sempre del biolaboratorio facciamo squadra per bloccarlo serve un fronte comune sono i residenti di Torraccia che protestano e che hanno incontrato il quartiere martedì riunione congiunta delle commissioni ancora problemi per le potature degli alberi quanto sono troppo drastiche stop ed assurde capitozzature il comitato contro i tagli di Aspes ai pioppi di Viale Marconi e nel resto della città quando si interviene troppo severamente insurgono anche gli ambientalisti era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà come sempre appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno al TG occhio alla notizia di questa sera alle ore 20 e 30 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la notizia